Non è trascorsa neanche una settimana dal fatto di cronaca. Nella tarda sera del 2 gennaio, i vigili del fuoco sono intervenuti ad Avellino per spegnere un incendio che stava minacciando una struttura in centro città. Non una struttura come le altre, ma l'ex cinema Eliseo. Un bene culturale, storico, artistico, non solo perché, come affermava Benedetto Croce, l'arte è ciò che tutti sanno cosa sia. L'ex cinema Eliseo è un bene culturale perché, per definizione, è di singolare pregio, rarità, rappresentatività, avente relazione con la storia culturale dell'umanità. Un progetto dell'architetto Enrico Del Debbio, il secondo architetto più importante in epoca fascista, dopo Marcello Piacentini. Lo stesso che ha progettato per Roma il Foro Mussolini, più noto come Foro Italico, per dare un'idea della levatura del personaggio. Una firma prestigiosa, per un bene culturale, la casa del cinema Camillo Marino e Giacomo Donofrio, ex cinema Eliseo, che ad oggi sembra essere stato degno solo di una vita ingloriosa, il cui climax è stato l'incendio del 2 gennaio. Le indagini sono in corso per l'accertamento delle responsabilità materiali del reato, ma la piazza virtuale di Facebook è in fermento. Un appello rivolto a tutti gli operatori della cultura e dello spettacolo, anche di piano nazionale, perché, con la loro solidarietà, si tenga a battesimo la rinascita culturale della città di Avellino. Con queste parole si esprime in una nota Anna Coluccino, attrice, sceneggiatrice, drammaturga, giornalista, al quale stanno aderendo in tanti, in vista di un primo appuntamento convocato per il prossimo mercoledì 9 gennaio. Una riunione di coordinamento, programmazione e pianificazione del progetto di gestione dell'ex Eliseo, in vista di un altro incontro, convocato per il prossimo 3 febbraio. In quella data si cercherà di discutere dell'implementazione di campagne di sensibilizzazione, perché l'ex cinema Eliseo non resti una scatola, ma si riempia di contenuti, superando la diffidenza degli scettici e togliendo terreno al deserto dell'ignoranza.